Stop ai cellulari in classe durante le ore di lezione. È la proposta avanzata dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, una regola che riguarderebbe sia gli insegnanti che gli studenti per evitare elementi di distrazione durante le ore scolastiche. Siamo stati in città per sentire il parere dei cittadini sul divieto di utilizzo del cellulare negli istituti. Il risultato tra gli intervistati è un vero plebiscito, tutti favorevoli a questa proposta. Ha ragione, lei insegnante le assicuro che ha ragione. Lei è insegnante? Ero, sono in pensione, ma le assicuro che ha ragione. Sì, ma sono distratti, sono sempre con questo telefono in mano, anche durante le ore di lezione. Sembra che il mondo esterno non esista, cioè che non si può vivere senza perché non si hanno contatti con il mondo esterno. Mi sembra giusto, mi sembra. Vanno tutti i cellulari e dopo durante le lezioni qualcuno ha anche il massaggio e tutto quanto. Mi sembra giusto. O farli spegnere. Sono d'accordo perché la scuola è una cosa importante. Sì che non bisognerà, non bisognerebbe usarli, assolutamente. Mi favorevole a questa norma. Io ho insegnante quindi assolutamente concordo. Giusto. Solo nell'ora di lezione, certo. Solamente durante le ore di lezione. Esattamente. Sì, certo. È giusto come norma. Senz'altro, sì. Anche secondo lei, signora? Sì. Fa bene. Fa bene. Mi sono nono, mi me va bene così. Meglio così. Sì. Grazie.